Musica Amici di Patrimonio Italiano TV qui sul Red Carpet sulla Quinta Avenue per la parata del Columbus Day con il console italiano a New York Allora console, che aria si respira, che atmosfera si respira in questa giornata un po' uggiosa ma riscaldata da tanti cuori italiani? Ma è uggiosa solo meteorologicamente, si respira un profondo e grandissimo orgoglio per l'Italia, per quello che gli italiani e gli italiani americani hanno fatto per questa città e quindi oggi si celebra questo, si celebra il contributo che la nostra grande fantastica comunità ha dato a questa città Allora, oggi la manifestazione continuerà poi al consolato, giusto? Oggi alle 6 abbiamo una grande, insomma apriamo le porte a tutta la comunità, al consolato generale per chiudere in bellezza questa giornata Un evento che come si vede dall'entusiasmo di tanti, non solo italiani o italo-americani ma anche tanti americani quindi vuol dire che la presenza dell'Italia è forte ed è anche molto sentita? Assolutamente, qui oggi si riuniscono tutti quelli che amano l'Italia e a New York, credetemi, sono davvero tanti Un saluto per tutti gli italiani nel mondo, ovviamente italiani a New York in primis Un saluto molto cordiale, affettuoso e siamo tutti molto orgogliosi di essere italiani Saluto con amicizia a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV È bello essere qui con voi e potervi dare un messaggio di vicinanza e di amicizia Grazie a tutti!